Tutto pronto per le elezioni europee. Da oggi pomeriggio alle ore 15 fino a domenica alle ore 23 i seggi saranno pronti per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo. L'elettore dovrà arrecarsi al seggio con un documento valido e la tessera elettorale. Chi è sprovvisto di quest'ultima potrà richiederla anche nei giorni della votazione all'ufficio elettorale del proprio comune. Per le europee l'elettore potrà tracciare un simbolo nella lista scelta anche non indicando alcun candidato. Si può votare per una sola lista. Si possono esprimere accanto al simbolo fino a un massimo di tre preferenze indicando il cognome dei candidati scelti che dovranno appartenere alla lista votata. Non è quindi ammesso il voto di giunto che annullerebbe la scheda. Se si sceglie di esprimere due o tre preferenze queste devono riguardare i candidati di genere diverso per non annullare la seconda e la terza preferenza. Il sistema elettorale è proporzionale. La soglia di sbarramento per partecipare al riparto dei seggi è del quarto per cento dei voti a livello nazionale. Gli elettori avranno a disposizione una scheda che sarà di colore diverso a seconda della circoscrizione di appartenenza rosa e per la circoscrizione elettorale quinta Italia insulare che vede le due isole Sicilia e Sardegna insieme. 18 anni l'età minima per votare, 25 anni quella per candidarsi. In quest'ultimo caso l'Italia è il paese con il limite più alto d'Europa insieme alla Grecia. Si voterà anche in diversi comuni della Sicilia per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Nella provincia di Agrigento andranno alle urne i cittadini di Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro e Racalmuto.